...valordo, in corpi sofferti e fatiti, in cuori traditi e delusi, nelle menti bacate di gente superba, egoista, impazzita, ma forse potrò ritrovarti in occhi di bimbi innocenti, in cuori di madri viventi, nelle menti della povera gente di vita serena vivente, lontana dal rumore di un mondo che non gli appartiene...